Uno scontro tra uno scuolabus ed un'auto a seguito del quale anche tre bambini sono stati portati al pronto soccorso per alcuni accertamenti. È successo questa mattina attorno alle 7.20 lungo la strada regionale 71 nei pressi di Policiano, comune di Arezzo. Nell'incidente è rimasto ferito il conducente dell'auto, un uomo di 65 anni, trasportato all'ospedale San Donato in codice 2, non è in pericolo di vita. Sono stati invece accompagnati per contusioni e lievi ferite al pronto soccorso di Arezzo anche tre dei sei bambini che si trovavano a bordo dello scuolabus. Sono intervenuti sul posto i mezzi dell'emergenza urgenza del 118 dell'Asla Toscana Sudesco e l'automedica di Arezzo, l'ambulanza della misericordia di Castiglion Fiorentino e quella della misericordia di Arezzo, presenti infine anche i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi di legge.